Ma si sperava in Calzona che dava un po' di scossa a questa squadra, ormai è il terzo allenatore che cambiamo, dunque secondo me la colpa ormai è dei giocatori che giocano senza crenta, senza volontà, scarsa attenzione, dunque non è più il problema allenatore, ma secondo me è il problema ai giocatori. Bisogna resettare quest'anno, farlo passare in fretta e iniziare da capo tutto. Vedere una squadra che fino a qualche mese fa faceva meraviglia, vederla giocare così è veramente disarmato, non c'è una spiegazione, a questo punto non hanno colpa nemmeno gli allenatori. È il terzo allenatore che cambiamo, quindi ora senza più alibi era Garzia e abbiamo mandato Garzia, Mazzarri, abbiamo mandato Mazzarri, oggi c'è un altro allenatore che ha preso il presidente De Laurentiis e diciamo i giocatori giocano sempre allo stesso modo, quindi è una cosa mentale e il quarto posto è difficile. Io penso che Napoli non riuscirà ad arrivare in Champions. Era già finito, ormai è tutto un copione da bruciare, da De Laurentiis a Garzia, a Mazzarri, a Calzona e anche a tutti i resti dei calciatori, perché i calciatori anche loro hanno le loro colpe. Ieri si è vista veramente come il livello è basso a livello di gruppo, ognuno pensa a sé. La speranza è l'ultima a morire, ma secondo me sta a morire, ma prima non è la speranza, secondo me, quest'anno il Napoli è così, è una sofferenza, però una cosa la voglio dire, il Napoli mi sta aiutando tantissimo quest'anno, perché prima non dormivo, mamma mia, ma dormo quando mi fai partito, forza Napoli!